e ragazzi siamo alla tdk mercoledì mercoledì 28 agosto cosa vi proponiamo come tdk cassette anni 80 90 dove dovete spingere play insomma quindi abbiamo una cassetta per voi dove estrapoliamo un pezzo dall'album liberi liberi di vasco rossi ci ascoltiamo stasera che è l'inizio della cassetta dell'album tdk originale del 91 liberi libri vai con la tdk stasera vasco rossi vai 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 un po di raucedini vai vai tdk mercoledì 28 stasera vasco rossi e ciao come stai e meno male che ci sei prova a star con me stasera io credo che non sia un'idea da buttare via prova a star con me stasera e quando te ne andrai quando ti accorgerai che domani non sarà più la stessa cosa ma cosa in mente che sia importante solamente quanto e se e che amore è vuoi che ti dica cos'è vuoi che ti dica cos'è prova a star con me stasera ehi baby come vai sei la sola dove vai ehi baby come vai sei la sola dove vai stasera stasera io credo che tu sai che cosa in mente ma vedrai prova a star con me stasera e quando te ne andrai quando ti accorgerai che domani non sa più la stessa cosa ma che cosa in mente che sia importante solamente io vedrai io vedrai Grazie a tutti.